Amici, mentre durante la premiere ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Amici, mentre ci assiamo in piedi, seguiamo il grito alla pagina 16 del Libro del Giallo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.